Oh, come vorrei diventare un grande cantautore e affermarmi all'estero come pupo! Oh, come vorrei diventare una ballerina professionista senza essere amica di Maria De Filippi! Anche tu come loro non vuoi più lavorare? E allora entra nel mondo dello spettacolo con la Enzo Ratti Enterprise! Prenota il tuo provino, entra nella mia macchina e fammi vedere cosa sei qua! Hai talento? Ti scoverò! Eccoci qua! Allora? Cosa? No, dove andiamo? Rimaniamo qui! Questo è l'ufficio proprio della Enzo Ratti Enterprise! Qui faccio i casting, qui dormo, mangio, ad esempio tu stai seduta sul letto! Ah no, no, scusi, scusi, non volevo... No, no, volevo io, stai tranquilla lì, stai! Dicevo io, oltre che a proporre gli artisti, li cerco, li scovo, a me piace scovare, io scovo tanto! Ah, ma sempre in macchina? Soprattutto in macchina, se questi sedili potessero parlare, meglio di no, meglio di no! E comunque è una cosa proprio istintiva la mia, come si dice, scovare umanum est, dell'est e dell'ovest, il prezzo è uguale alla fine! Tu di dove sei? È lissone! Mai scovato lissone, sai? Allora, ti dico subito che il provino dura 20 minuti, se poi ne vuoi fare un altro, mi devi dare almeno 10 minuti, così mi riprendo, eh! Ah, ma non è lei che deve riprendere me? Come no, ti prendo e ti riprendo, eh! Facciamo un primo piano, un secondo più veloce, eh! Così! Ciao!